Pone le basi su quattro livelli essenziali, il programma Sanità del MoVimento 5 Stelle, presentato stamani a Chieti alla presenza, tra gli altri, del Ministro della Salute Giulia Grillo, riorganizzazione della rete ospedaliera, riduzione delle liste di attese, edilizia sanitaria e digitalizzazione di innovazione tecnologica. In Abruzzo, il sistema della sanità pubblica è al collasso, ha esordito il candidato presidente del MoVimento Pentastellato Sara Marcozzi, aprendo l'incontro con la stampa stamani a Chieti, tra ospedali depotenziati, affitti d'oro, sprechi con noleggi di macchinari che potrebbero essere acquistati, ed infine liste di attesa interminabili. Ministro, garantire la salute a tutti i cittadini, però poi si chiudono i piccoli ospedali qui in Abruzzo. Allora, quello che noi abbiamo detto è che bisogna garantire il servizio, non è la struttura in sé, perché se tu hai una struttura aperta che non funziona, facevamo l'esempio dei punti nascita, no, se tu hai un punto nascita che fa 50 parti l'anno, che non ha la terapia intensiva neonatale, che non ha l'anestesista, hai la struttura ma non hai il servizio. Allora, il concetto è garantire il servizio, e il servizio lo garantisci facendo tutto quello che devi fare. Dov'è la rete dell'emergenza urgenza? La stiamo aspettando dalla regione, le reti tempo dipendenti. Quindi, quando tu attui una serie di misure, come quella di magari dare seguito alla proprietà clinica, su alcune strutture che stanno in piedi e costano troppo rispetto a quello che fanno, però poi dall'altra parte devi dare il servizio al cittadino, lo devi lasciare abbandonato nel nulla, che se ha bisogno non sa dove rivolgersi. E questo noi siamo in grado di farlo perché abbiamo una visione di insieme e una visione di sistema, perché non abbiamo interessi elettoralistici con bacini appunto elettoralistici da soddisfare, noi interessa semplicemente fare le cose giuste nei giusti territori e con le risorse che abbiamo. Poi, naturalmente, con la gestione Marcozzi ci sarà anche una migliore gestione di risorse economiche, che non verranno sprecate in improbabili progetti di project financing, ma verranno utilizzate invece dove c'è la reale necessità. I cittadini ci chiedono di togliere la politica dalle aziende sanitarie, aggiunte infine al Ministro Grillo, perché esiste un grande problema di capacità. Il tema è che chiaramente la legge nazionale, l'impianto nazionale, senza io l'avvalo delle regioni non lo posso cambiare, allora va bene la nomina fiduciaria, perché se uno nomino un illuminato è tutto a mio vantaggio, voglio dire, e però sarà veramente nostra preoccupazione come Movimento 5 Stelle quello di rendere noti i criteri appunto con cui verranno nominati i nuovi direttori generali, rendere note le qualità, insomma, le capacità che questi manager hanno e cosa sono riusciti a fare prima di venire, perché non è che devono sperimentare qui la loro capacità, la devono già avere sperimentata da qualche altra parte. Grazie.